... Vai così Ale! Sanguinata! Anche gli hai dato un pochino di pampagne, è bella eh! Ho sentito un po' di calcio, il nuovo stock! Ha detto, beh, gli hai battito il calcetto! Che bello! Stai distruggendo, no! Quando sei qui addosso, sei qua, usa le ginocchia, capito? Quando sei qua, usa le ginocchia, prego! Solo quando sei vicino! 2-3-2, 2-3-2, non ne prende uno di destra! Se ne prende tutti in faccia, non ne para uno! 2-3-2 Si è finito, quando sei vicino? Inizio altro! Ahhhh! Quanti colpi? 2-3-2 3-3-2 3-3-2 3-3-2 3-3-2 3-3-2 3-3-2 3-3-2 3-3-2 3-3 4-3 4-3 5-3 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 6-3 6-3 6-3 6-3 6-3 6-3 6-3 7-4 6-3 7-4 8-6 8-6 9-6 7-6 8-6 8-6 8-6 9-6 8-6 9-6 9-6 8-6 9-6 9-6 10-6 10-6 10-6 10-6 11-8 11-9 10-9 11-9 11-9 11-9 11-9 11-9 12-9 12-9 11-9 12-9 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.